Ciao a tutte! Oggi un nuovo video e si tratta di un video haul. Ho fatto un ordine dal sito Nabla, approfittando degli sconti che c'erano per il lancio della nuova collezione Goldust. E appunto vi voglio far vedere che cosa ho acquistato. Per prima cosa ho acquistato questo qui, che è il mitico eyeliner, Dazz Liner, che è un eyeliner metallico bellissimo. Questo qua si deve agitare per bene prima di utilizzarlo ed è un oro rosso duochrome, leggermente duochrome, veramente bellissimo. E questo qua scontato l'ho pagato 10,71€. Mi sono scritte i prezzi altrimenti non li avrei mai ricordati. Lo swatch è questo qui ed è qualcosa di veramente eccezionale. Guardate che bello che è, come si vede il riflesso rosa e oro. Che ha, veramente bellissimo. Non vedo l'ora di utilizzarlo top, veramente. Non potevo veramente non prenderlo. E poi mi sono presa 6 ombretti, 4 della nuova collezione Goldust e 2 di una precedente collezione. E mi è stata data come omaggio questa palette qui, che è la palette Liberty 6 Deco, che è oro. Ha questi riflessi dorati e neri, bellissima, davvero bellissima. E vi faccio vedere nel dettaglio gli ombretti che ho acquistato. Il primo ombretto che vi mostro è questo qui ed è Luna. Questo qua è un doratino champagne bright, molto bello. Adatto soprattutto per dei punti luce all'interno dell'occhio o anche sotto la palpebra mobile che va ad aprire proprio lo sguardo. Secondo me è veramente bellissimo. E questo è il suo swatch. È veramente molto molto bello questo qua. E questo qua l'ho pagato 5,53 euro. È veramente bellissimo, devo dire, come punto luce. E sono super curiosa di provare questi ombretti. Non ho provato nulla assolutamente. Ho soltanto fatto un piccolo swatch per curiosità. Ma adesso vi metterò e li testerò tutti. Secondo ombretto che vi mostro, e secondo me questo è un must di questa collezione, è questo qui che è paprika. È proprio così come lo vedete, è un color paprika, è un super matte. Quindi è super vellutato al tatto, super scrivente come si può ben vedere. E bellissimo. Questo qua è il suo swatch. Questo qua è bello sia su tutta la palpebra mobile, proprio facendo un bello smokey eye, sia messo nella piega dell'occhio, facendo appunto una piega con un colore bello così caldo, con un dorato sulla palpebra mobile. Secondo me sta veramente bellissimo. E questo qua l'ho pagato 6,72 euro. Veramente questo qua è bellissimo. Un altro ombretto meraviglioso è questo qui, che è Ludwig. Ludwig è un dame bronzo molto luminoso, bellissimo. Infatti è un super bright. E ve lo swatcho. È veramente bellissimo. Wow, bello. Questo qua è il suo swatch. Questo qua, secondo me, messo su tutta la palpebra mobile, facendo un bello smokey con questo, e applicando l'eyeliner glint sopra, veramente esce un trucco meraviglioso. E questo qua, appunto, è Ludwig. Questo qua l'ho pagato 5,53 euro. Un altro ombretto super particolare, e che secondo me, insieme a Paprika, è un masterbo, appunto, di questa collezione, è sicuramente Danae. Danae è un oro bronzo molto, molto intenso, ed è un celestial. È veramente bellissimo. È molto particolare al tatto. Sembra quasi granuloso, però guardate che brillantezza che ha. È veramente stupendo. È veramente meraviglioso. Super scrivente, come si può ben vedere. E questo qua non vedo assolutamente l'ora di utilizzarlo. Questo qua è veramente meraviglioso. E l'ho pagato 8,41 euro. Questi qua erano gli ombretti che ho preso della collezione Goldust. E adesso vi faccio vedere gli altri due ombretti che non fanno parte, appunto, di questa collezione che ho acquistato. Il primo ombretto, appunto, che non fa parte della collezione Goldust, è questo qui, che è Frozen. È un argento ghiaccio super puro e super luminoso. Infatti, è della categoria Super Bright. Questo qua l'ho pagato 6,50 euro, perché non era scontato. Lo swatch è questo qui ed è bellissimo. Questo qua l'ho bramato da tantissimo tempo. Insieme al prossimo che vi farò vedere è questo qua il suo swatch. Guardate che brillantezza, che luminosità che dà. Veramente meraviglioso questo. Non ho altre parole da dire, veramente. Ultimo ombretto che vi mostro è che volevo anche questo qua da tantissimo tempo. È Water Dream. È bellissimo. Questo qua è un top coat, effetto bagnato, meraviglioso. Guardate com'è luminoso. Bellissimo. Eccolo qui. Questo qua, messo su un qualsiasi ombretto, lo rende super brillante, super luminoso, bellissimo. E questo qua l'ho pagato 7,90 euro. Sono veramente super entusiasta delle cose che ho acquistato. E finalmente adesso inizierò ad utilizzarle. E quindi ve ne parlerò un po' nei prossimi video. spero di riuscire a fare anche un tutorial o un trucco con voi facendovi vedere come si comportano questi prodotti. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile e che vi abbia tenuto compagnia. Mi raccomando, scrivetemi un commento qua sotto. Vedetemi voi che cosa avete comprato e cosa ne pensate. Lasciate un like, iscrivetevi al mio canale. Io vi mando un vostro bacio, ciao e al prossimo video.